Il nostro è un progetto un po' speciale, un po' particolare, perché siamo in largo 4 marzo a Torino e quindi è un contesto storico molto delicato. Il nostro è un progetto composto in pratica da due pezzi, una torre d'angolo di linguaggio più contemporaneo e il restauro di un edificio medievale che è stato poi a suo tempo anche remaneggiato dal Dandrade, quindi un intervento che si compone di due edifici che in realtà sono lo stesso ma sono articolati in un modo un po' particolare, un po' speciale. Il rapporto con il Medioevo lo si intuisce da una serie di scelte, quello della torre d'angolo che si richiama un po' alle torri medievali che sono in qualche modo anche rievocate nel contesto circostante da alcuni edifici contemporanei e, se vogliamo, anche da questa scansione delle aperture, delle finestre perché sono articolate in un modo più spontaneo rispetto alla tradizione e richiamano proprio la spontaneità dell'architettura medievale.